Consigliere Carlo Costantini, a lei i conti del progetto case non tornano? Ma non è che non tornano a me, non tornano se la matematica non è un'opinione. Sono stati spesi, secondo quello che ha dichiarato Bertolaso in Senato ed è riportato nel sito della protezione civile, 809 milioni di euro. La dotazione è costituita da 700 milioni di euro stanziati dal decreto Abruzzo e circa da 40 milioni di euro provenienti dalla donazione. 80 milioni di euro presumibilmente sono stati presi dalla donazione di 350 milioni di euro fatta dall'Unione Europea. Io ho chiesto che fine hanno fatto i restanti 270 milioni di euro donati dall'Unione Europea. Questo quesito l'ho posto venerdì, credo. In un contesto democratico, se un eletto che rappresenta 230 mila abruzzesi, io sono stato candidato alla presidenza della regione, pone una domanda così seria, così fondata e così ragionata, qualcuno risponde. La protezione civile risponde, il Presidente dell'Aggiunta regionale risponde, il Sindaco dell'Aquila si interroga. In realtà questa domanda è caduta nel vuoto, nel senso che nessuno è in grado di dirmi se questi 270 milioni di euro integrano i costi del progetto case e questo qualcuno dovrebbe dirlo, oppure sono stati destinati altrove e questo qualcuno dovrebbe dirlo. Questo qualcuno però non parla e al contesto devo dire che interessa il fatto che questo qualcuno non parla.